Nell'episodio precedente. Qua c'è un villager a scomparso che è scappato, oh. In ogni base ci mettiamo un animale. In quella finale ci mettiamo l'Ender Dragon. No! 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 Oddio, sono diventato! Oddio! Oh mio, oddio in questo episodio. Allora, amici, come vedete, ta-daan, abbiamo fatto... cos'è quello? Un bestione? Una mappa del... non so parlare. Mi dica, mi dica. Oh, c'è uno smerdaldo in mano. Sì, si chiamano smerdaldi. Guarda questi, guarda questo che è in cattività. Sono stati rapiti. A parte il fatto che abbiamo fatto quella mega cattedrale, ti rendi conto che piove sempre. Cioè, piove sempre. Fuori di testa piove sempre. Abbiamo fatto... AFK, infatti, non esce stasera da tipo quasi una settimana, perché ci siamo messi a farmare i materiali, farmare le cose per fare sta roba. Ta-tan! È la mappa che col sole è più bella, però... Io gli apro la porta, questi. No, eh, niente. Vabbè, apri, non lo so. Oh, mi stanno picchiando. Mi è arrivata una sberla da qualcuno, non so chi. Oh, ma mi... Bunny! 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 C'è un tipo che vola... Guarda, guarda in cielo, guarda in cielo, c'è una roba che vola. Oddio, oddio. Che roba è? Cosa sono? No, non ne ho idea. Non ne ho mai visti, mai sentiti. Sono dei pterodattili. Oddio, che roba è? Ma perché quando... Ma sta... Oh, è incredibile che in stasera... Sono gli alieni, sono i fottuti alieni. Sono gli alieni, noi ne avevamo parlato. Guarda che occhi! Oddio, c'ho i brividi. Non sapevo. Cioè, ma perché in stasera... Oddio, Bunny, guarda in casa! C'è il villager! No, come si chiama? Ma cosa sta succedendo? Da dove è sbucato? Ma... A parte che sti due... Allora, allora, fermi! Ma guarda sti due che ci stanno facendo da... da protettori, sono messi tipo i bodyguard, tipo così, no? Ma cosa sta succedendo? Ma cosa c'è fatto qui? Eh, c'è il lama in casa! Ma è sbucato dal... No, non lo so, non so niente, non so niente. Eh, andiamo, andiamo. Sì, ma ci hanno attaccato gli alieni! Guarda lì che volano! Ma c'è il colco del lama! Madonna! Eh... Sì, ma ci hanno attaccato gli alieni! Che cacchio! Ma cosa sta... No, scrivetemi nei commenti... No, io qua non ne ho idea di cosa sia. Proprio non ne ho idea. Io non ne ho idea. Occhio dietro! No, uno zombie villager! È uno zombie villager, è morto. Allora, quindi io... Noi volevamo solo farvi vedere la mappa, il tempio e vabbè quella roba lì, però è successo il disagio. Ci diamo solo il ragno. Fì, non so dire ragno oggi. Ragno! E non so dire... Allora, davanti a casa nostra c'è il delirio. Te la butto lì. Sopra casa nostra ci sono gli alieni, letteralmente. Esatto. Ti prego, andiamo a dormire. Ti prego, andiamo a dormire. Ok, cosa sta succedendo? Signori, gli alieni mai... Oh, noi l'abbiamo detto nel primo episodio, eh. Io me lo ricordo benissimo, e piove ancora. Oh no, è smesso. Guarda lì come muoio, guarda come brucia, guarda come brucia. Ora voglio vedere... Ma è una zombie villager! Ma no, ma io dico... No, ci stanno cedendo gli... No, guarda gli alieni in cielo, come bruciano. C'è un mini maialino che carino, che carino, che carino, 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 carino! C'è pure un mini gattino! Ma cosa... Cioè, ma noi ci siamo direi... Ci segue quella cosa lì, dai, dai, dai. Il maiale, ah è per la carota, venghi 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 che lo portiamo dal capo lì Viene dalla patatozza, no viene dalla carota, ma i maiali non vogliono le patate Vedi che vogliono, no vogliono le carote, guarda che viene la patata Vabbè comunque lo lasciamo in compagnia del golem che sembra tanto tipo il prete pedofilo Ma lascia perdere comunque Lascialo lì, lascialo lì Esatto, allora dicevamo Ma cosa sta succedendo, ma sì, ma cosa sta succedendo Che la nostra casa è tutta baggata Ma non c'è niente di giusto in questa serie C'hanno invasi gli alieni Vabbè comunque Che cacchio volevo dire Il tempio, giusto questo è il tempio Sono passati sei minuti, non abbiamo ancora fatto vedere niente Questo è il tempio, ci abbiamo messo Oddio picchialo Ci abbiamo messo una settimana per farlo Infatti era una settimana che non usciva l'episodio Vabbè il signor del tempio Ora in questo episodio Andiamo a farci l'armatura Perché mi sa che abbiamo un po' di ferro da parte Signori villager possiamo entrare? Sì, grazie C'è un lama che Ma sai cosa dobbiamo fare? Picchiare Peppa Pig? Dannazione No, dobbiamo rubare i libri ai villagers E crearci la nostra libreria Dobbiamo fare sì il tavolo degli incantazzini Comunque qua c'è il ferro 47 Faccio... Ok, volendo potremmo farci il piccone di diamante Ma non è il momento Come sto io? Eeeh, sei carino, sei carino Ma c'è ancora i lineamenti oro o no? Sì, sì, c'hai i guanti oro Esca, esca Prima che esca il signor Pig Il signor Pig Ma sei passato attraverso la... Vabbè, lascia perdere Allora Le mappe ce le ho Dobbiamo andare verso la... Ah, però Aspetta, aspetta Dobbiamo farci il piccone Così se troviamo l'ossidiano Iniziamo ad accendere il portale Quindi Esatto Ci facciamo il piccone Cerchiamo le coordinate E ci vediamo dopo Allora, siamo arrivati al portale Ci siamo mossi Cioè, abbiamo fatto il taglio sicuramente Perché appunto Volevamo andare a prendere l'ossidiana Il piccone Sì, l'ho preso No, se no ho panico Proprio mi mettevo a piangere Appunto, volevamo prendere l'ossidiana Per andare a creare il portale Però questo è un portale un po' particolare Vabbè, ma basta unirlo Boh, vabbè Nel dubbio Prendiamoci un po' di ossidiana Quindi dobbiamo andare Eeeh No, ma siamo degli... Ah no, ce l'ho il secchiello d'acqua Ok Ok Perché ho detto no Non l'abbiamo preso Quindi, niente Scaviamo verso il giù Proprio scendiamo, scendiamo Ma qua in giro non c'è Guarda che c'è giallo Ossidiana Ah E qua la situazione si ribalta E niente Quindi andiamo a fare il portale Proviamo ad entrare In caso io direi Usciamo subito Perché secondo me Ci moriamo malamente Ma proprio te la butto lì Allora abbiamo completato il portale No Zii, guarda dietro Guarda dietro Ci stanno invadendo Oddio, li odio Li odio I pillager Allora li picchiamo Vai di cattiveria Oh, non guardarli negli occhi Picchiali senza Farci due volte Zotta Zotta Sì Ma poi ce n'è uno Che è tipo il capo Magari adesso non c'è Comunque è tipo il capo Che fa le magie Uno stregone Roba strana Non so Non so Sì Nel dubbio abbiamo preso L'acciarina Sì Abbiamo preso l'acciarina Abbiamo preso tutto Vediamo se si accende In caso No Beh Che dire No Mi sa che davvero Dobbiamo sostituire Sì, dobbiamo sostituire Sti pezzi Sì, sì Dovendo ce la facciamo Beh andiamo a prendere L'altra lava E poi sostituiamo No, no Ma ce l'abbiamo qui Ah, c'è qua l'ossidiana Ok, perfetto Sì, sì, sì Ce la facciamo Ce la facciamo Niente Quindi prendiamo l'ossidiana Ci vediamo dopo A portare l'acceso Dai, proviamo ad accendere In teoria dovrebbe funzionare Giusto? Giusto Oh La Madò Che bestia Madò Che bestia Bellissimo Allora mettiamo via Questa E entriamo a dare un'occhiata Sì Un attimo Ah, non abbiamo le torce Oh Che ce l'ha il carbone? Questo sarà un problema Fa niente, fa niente Dai, entriamo un attimo Ci vediamo Dall'altra parte Piccola citazione Vabbè, lascia perdere Dai, vediamo dove In teoria ci fa sboccare Nei bastioni Cioè, nel bastione Ci fa sboccare Ci fa sboccare nel bastione Salve Siamo venuti Non sei E qua davanti Non ti vedo Occhio, 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 occhio Occhio, occhio Occhio a me Ok Oh, zi Senza vita Ok Eh, niente No, non c'è Cioè, boom Non so quanto convenga stare nel nether Oh, non toccarli sti maialini, eh Non ti fa niente Se le tocchi si è morti, calcola Ah, però sai cosa? Possiamo iniziare a prendere un pochito De Cioè, non de Quarzo Di quarzo Lo squarzo No, no, non fargli niente Non fargli niente Non fargli niente Allora, intanto Ci lasciamo qui Aspetta, ci lasciamo qui Blocchiamo sto episodio Nel prossimo Ripartiamo dal nether direttamente E vediamo che succede In caso possiamo tornare a casa Tanto abbiamo trovato gli alieni In questo episodio Quindi, noi ce ne registriamo un altro Vi ringraziamo al plurale Per la visione E vi diamo appuntamento Noi ce ne facciamo Non guardarlo Non guardarlo Non guardarlo Non guardarlo Quanto sei impetante Sì, esatto Sei diventato biondo Vabbè Vediamo appuntamento domani Nel solito Ravvero due in quarto Con un nuovo video Noi intanto registriamo la seconda parte Ciao Ciao